Continua il viaggio della correzione Barrique che questa volta si apre al territorio, sarà visibile qui a Cerasolo d'Aosa fino a settembre. Siamo contenti dopo il viaggio che abbiamo fatto in America di venire a Rimini, di stare nella nostra terra e di abbracciare il territorio, specialmente questa realtà di EcoArea che vuole rispecchiare un po' l'ecosostenibilità del posto, dell'ambiente, rispecchia dei valori che un po' si accomunano a quelli del progetto Barrique. Quindi speriamo che sia un successo anche questo di Rimini come è stato quello in America, Milano e nelle altre città dove siamo stati. E speriamo di continuare questo progetto cercando di coinvolgere sempre anche i giovani designer, nuovi architetti e dare voce anche a tutti quei ragazzi che dentro la comunità attraverso questo progetto hanno riscoperto il valore della vita, del lavoro e hanno imparato anche una professione. I ragazzi si sono affezionati a questo progetto, a questi lavori realizzati con le barrique di smesse? Sì, infatti lo sentono proprio loro questo progetto perché dare nuova vita al legno è come ridare nuova vita a se stessi. Quindi si ritrovano, si rivedono, con entusiasmo portano avanti questi progetti, cercano di farli loro. Veramente è un momento importante per tutta la comunità perché trasmette attraverso un progetto di questo tipo il valore e gli ideali che stiamo portando avanti anche all'interno della comunità. Nasce Coaria nel segno di una sinergia con la vicina comunità di San Patrignano. Cosa rappresenta per voi questo inizio? Un enorme piacere oltre che un onore perché chiaramente San Patrignano ormai è un brand, se così possiamo definirlo, eccellente. Non dimentichiamo chiaramente cosa c'è dietro questo brand, c'è la rinascita di vite e quindi è quasi un'emozione per me, anche perché Coaria ha un payoff che si chiama Better Living e quindi tutto quello che dà risalto al Better Living, al migliorare le condizioni della vita ci trova, partecipe con molto entusiasmo. E tra queste iniziative è anche la rappresentazione della compagnia teatrale di San Patrignano che è tra i primi eventi che questo spazio ecosostenibile ospita. Sì, anche questo effettivamente è una novità. Nel nostro progetto iniziale c'era non solo il B2B, quindi eventi rivolti agli aziende, agli studi professionali, ma il Better Living significa anche proseguire, finito l'orario di lavoro, ad avere un momento di svago o di cultura. Questa sera si parla di teatro, si parla di Amleto, si parla di Shakespeare e quindi ci fa un enorme piacere dare inizio anche a questo percorso culturale insieme ai ragazzi della comunità di San Patrignano.